I lavori relativi all'intervento di protezione del litorale, ricostituzione delle dune, della riserva naturale e macchia foresta del fiume Erminio, sono stati aggiudicati all'impresa COGECA SRL di Agrigento. Il progetto è stato finanziato dall'assessorato regionale al territorio e ambiente per un importo di 82.400 euro, ma è stato aggiudicato all'operatore COGECA di Agrigento per un importo di 50.721 euro, con un ribasso del 20,66%. L'iter progettuale ha avuto un iter veloce se si considera che il progetto esecutivo è stato approvato lo scorso 3 febbraio e che il 3 giugno è stato disposto l'avvio di tutte le procedure amministrative per lo svolgimento della gara di appalto, per l'affidamento ad un soggetto qualificato dei lavori, e che lo scorso 3 luglio è stata espletata la gara in oggetto con la proposta di aggiudicazione dei lavori. Il progetto è stato redatto da un gruppo di lavoro interno al Libro Consorzio Comunale di Ragusa, composto dalla direttrice delle riserve, Carolina Di Maio, dall'agronomo e progettista, nonché direttore dei lavori, Roberto Kundari, è da Marco Battaglia, Antonio Di Quattro e Maria Grazia Vindigni, ed è finalizzato alla conservazione dell'habitat delle dune costiere con Ginepro, mediante la protezione del cordone dunale stabilizzato, privo della vanduna deputata a rifornimento di sedimento della duna e pertanto soggetto alla demolizione ed erosione ad opera delle mareggiate, o interessato da fenomeni naturali. Il progetto, che verrà realizzato con la costruzione di una barriera, piantumazioni ed eradicazioni, punta a favorire la ricostituzione delle dune presenti in alcune aree verso Levante attualmente poco sviluppate, al contenimento di specie esotiche, all'implementazione della copertura vegetale, ove scarsa o assente. L'area interessata all'intervento ricade lungo la costa delle Contrade e Gravina, Passo Forge e di Scicli, fino al Vallone Pleia Grande, territorio di Ragusa e Scicli.